E' stato un pomeriggio molto intenso e carico di emozioni per i piloti e club siciliani JetRC che si sono radunati sul torrente Niceto per il consueto scambio d'auguri e per testare nuove tecniche di volo e di riproduzione di piccoli aerei fedelmente riprodotti sia per costruzione che per volo. Uno spettacolo che ha incantato il pubblico presente, che ha potuto vedere volare i piccoli voli e possono raggiungere anche velocità sostenute. I piloti con un semplice telecomando azionavano il volo, il tutto nella massima sicurezza, visto che gli aerei sono dotati di un sistema elettronico e permette l'atterraggio in caso di avaria del motore. Ormai da un trentennio i club JetRC stanno cercando di fare appassionare tanti giovani a questo hobby che, come già successo in passato, potrebbero diventare dei veri piloti di aerei ed elicotteri.